Ma buon salve a tutti, oggi siamo tornati con la reaction alle poop, alle YTP perché le amo, ci sono cresciuto con sti video quindi ho detto ma rifacciamolo, troviamo un nuovo personaggio e reagiamo alle sue poop, che fai te ne privi? Eh no che non te ne privi, oggi ho deciso di reagire alle poop di Giorgione lo chef, per chi non lo conosce uno chef che fa video sul canale youtube di Gambero Rosso, quindi ho detto ma facciamolo eh, facciamolo questa reaction E l'ho conosciuto Giorgione da un mesetto quindi fresh, un personaggio fresh per me, anche se per alcuni non è molto fresh ma ok, meglio tardi che mai Prima di iniziare io vi ricordo di supportare il canale con un bel like, mi raccomando, spollicciate, spaccate quel tasto, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e seguitemi nei social, importantissimo perché li pubblico tante cose belle E poi perché dobbiamo arrivare a Emile sui social, bene iniziamo con la prima poop perché me ne sono salvate 4 o 5, il primo fa Giorgione e respiri molto grossi, bene vediamo questi respiri grossi Hamburger, nel senso che sto facendo un hamburger un po' più Un po' più Ah, un po' più Ci mettiamo un po' di sauce grosso Ah, sauce grosso Ci mettiamo un po' di pepe grosso Poi casomai saliamo dopo Pepe grosso mi raccomando Volevo mettere tutta la pepiera, non lo so La carne è tanta quindi non gira tanto più sì Sì, ho capito signor Giorgione, però Vabbè, 40 giri di pepe, 50 Molto, molto, molto pepe Ecco Dunque, vediamo la dimensione del bene No, no Giorgione, che dimensione vuole vedere? Come grosso Ecco No, questi respiri mi ricordano un altro personaggio Ok Fate dei ben respiri Ci prendiamo Una bella mozzarella Un bull Ah, mozzarella monella Ma che cazzo di video è? Un giro di olio? Ma proprio un giro? 40.000 giri dopo Che cazzo? Sì, vai Mettiamo tutto Molto, molto Olio Molto, molto bene Ovviamente i suoi respiri Perfetto Perfettissimo Che poi già lui quando spiega Li spiega in un modo particolare Le sue ricette Ecco perché è diventato un meme Ecco qua Oh, però è buono Allora io Un culo Manco i panini di Ciccio Gamer Sono così giganti L'ho rosolato di qua L'ho rosolato di là Eh Poi L'ho rosolato di qua L'ho rosolato di là Poi Poi Piano 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 L'ho rosolato di qua Eh vabbè L'abbiamo rosolato Su questo non ci sono dubbi Et voilà Molto, molto Bello, 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 bello Grosso È buono? È buono Se lo dice lui Come mangia signor Giorgione Io boh Che cazzo sto vedendo Certi video No sense E questo è il bel giro dei poop Che sennò no sense E te fanno ridere così dal nulla Prossima poop Quelle ricette di Giorgione Il cazzone Perfetto direi Perfetto Spero che non mi censurate questo video Per questa parola eh L'ho dovuto dire Sennò non si capiva il titolo Ma Star Wars è ovunque In tutte le poop Star Wars Basta con Star Wars È una cosa vecchia Vecchia Saranno dieci anni Come cazzo Ma Giorgione Strepitoso Dei sibellini Buono Profumato Vabbè su questo non ci sono dubbi Votato E qui cominciamo Che dolce di acqua Con del burra Con del burra Con del burra Nooo Con del SARS Non è tantissimo ma è giusto Le orecchie Le orecchie È esploso Giorgione Dentro l'acqua 300 kg di pepe topo E lasciamo che cuoco Adoro Poi Prendiamo una bolle E allora Un che? Ci mettiamo Il cazzo Nooo 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 Un po' Quanta gliene serve Poi il cazzo A Giorgio Te piace Ti facciamo prendere il pepe Ma con questa musica sotto Perbenito Risentiamo Perbenito Spegniamo qua Spegniti Purtroppo non posso permettere Che questo accada Greve Spegniti Spegniamo qua È perfetto Una poop breve ma intensa Adoro ste poop Guarda Adoro Ma mai come il prossimo Che si chiama Giorgione taglia il guanciale Come se piovesse Perché come se piovesse È un suo meme Che dice Mettere l'olio come se piovesse Ormai dopo un mese Non lo so imparato a memoria Giorgione Come se piovesse Ecco Se piovesse molto Una nevicata di cazzo Nooo E basta E basta Grazie Come se piovesse Come Ragazzi Non voglio dire ma Io ci dormo Fra due Bambini Nooo Mi dissocio Non faccia cose con i bambini Ma che si è fumato Quello che si è fatto Le poop Ma chi si è fumato Ma che si è fumato Così a caso Le poop 3 2 1 3 Un tiro di pasta 4 Molto molto bene Grazie Le orecchie ringraziano Altro tipo di guanciale Mi sa che questo Mi ha fumato qualcosa Prima di fare Le poop Ma cos'è Ma cosa ho visto Ma che cacchio è Dimmi il tuo spacciatore di fiducia Che ne ho bisogno Dimmelo Voglio essere anche io felice come te Fare dei video del genere Ma andiamo al prossimo Giorgione stima il porco Che nella cucina devi stimare il porco Top prodotto M come porco Che altro Ah M come porco Non lo sapevo Volgarmente detto Maiale Spago 1 2 e 3 Vedete A posto Continuiamo 1 2 e 3 1 2 e 3 Allì Lo proviamo Stai voi ci modificate Muoio Diamo un massaggino su a dente Con il sale grosso Con sta voce no eh Da tutte le parti eh Questo bel filocchieston Ma uno eh C'è il vatico così Allè Ci lo adagiamo sopra E ci mettiamo l'olio Come se piovesse Abbondante Un secondino e ci mettiamo il vino Et voilà Si è fatto di Elio Prima di fare il video Guardate un po' che spettacolo È molto bello Molto molto bello Ecco così E così Molto molto bello Ecco Mi sento male Mi sento male Giuro Vogliamo vedere gli ultimi secondi Il porco è una gran bestia Ma che cosa è no sense Che fanno ridere C'è Le cazzate Proprio le cazzate del web Io ho scoperto come fare le visual eh Dovevo fare le poop Fino ai tempi C'è Sono video no sense Ma fanno ridere Questo è il bello dell'internet Ma andiamo all'ultima Con Giorgione gode in cucina Non a caso perché la cucina è godereccia Ti fa sbovave Si dice in gergo Fantastico E si prende a sgarassoni Si la prossima volta Equalizza bene l'audio E le scelte sono private Molto molto bene Forno Caldissimo Guardate che spettacolo Rametti di finocchietto selvatico E le scelte sono private Ah e beh E poi Questa stupenda birra Bella Spumaggiante E il gioco Penso Suppongo Sia cotto Come suol dirci Ci mettiamo mano Mano e poi ci metti Il dita nell'orecchia Un attimo sono eh I versi di Giorgione Quanto è bello Madonna mia Guarda che spettacolo Molto molto yeah Un paio di queste belle fettinucce Ecco Ecco perché gode Gli do morso eh Polla non è quella crosticina Ma che cazzo è Che è un video brevissimo Ma brevissimo Che ti fa pigiare Cioè Semplicemente sono stati I versi di Giorgione Voce modificata Tutto qua Ma questo è il bello Questo è il bello Peccato che ce ne sono poche Di Giorgione Fatene Fatene pup di Giorgione Fatene Che qui ce ne è bisogno Prima che finisce La moda di Giorgione Prima che finisce il meme Godetevelo Finché siete in tempo E detto questo Io direi Che posso chiudere qua La reaction Tanto la mia reaction Sono stato solo Risate E faccine Tutto qui Questo sono io Che dire Spero che vi sia piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi al canale Seguitemi nei social E niente Ci vediamo alla prossima Puppata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti